Fuori da è sempre mezzogiorno. Fuori senza una ragione apparente. Lo ha raccontato nel corso di un'intervista esclusiva a fanpage.it di cui riportiamo alcuni stragi. Il programma in onda sulla Rai ogni giorni è uno dei più seguiti in assoluto. Già nelle scorse settimane, tuttavia, aveva dovuto fare i conti con alcuni problemi. Tra questi l'addio frettoloso del compagno di Selvaggia Lucarelli, Lorenzo Biaggiarelli, costretto a salutare il programma dopo un brutto fatto di cronaca. A parlare, stavolta, è un altro volto molto noto del programma. Il motivo non lo so. Forse in televisione ci sono meccanismi che funzionano così. Le cose sono finite senza una spiegazione logica. Ero tornato felice e contento di stare lì. Sento l'affetto della gente, ma purtroppo credo che non potrò più tornare. Evidentemente qualcuno non vuole. A parlare è lo chef Simone Buzzi, colpito tra l'altro da un tumore dal quale era riuscito a guarire. Durante la malattia, gli autori mi chiamavano spesso per sapere come stavo. Dopo avere fatto i controlli e avere saputo di essere guarito, mi sono messo d'accordo con la produttrice della Rai e ho fatto i biglietti per andare a Milano. Ero gasatissimo, non vedevo l'ora. Quando mi hanno visto, erano tutti in lacrime. Dopo quel giorno, ho fatto alcune puntate. A volte dovevo assentarmi perché non avevo le forze, non mi sentivo bene, dovevo ancora riprendermi del tutto dopo la chemioterapia. L'ultima puntata l'ho fatta a giugno. Antonella Clerici spiega, durante la malattia è stata molto presente, ma se già io ho mille impegni, credo che lei abbia ancora meno tempo di me. Però si mi ha scritto e anche lei si chiedeva come mai non tornassi. Il motivo è sconosciuto tanto ad Antonella quanto Simone, che cerca di dare una spiegazione. Sono cambiati anche gli autori. Quando entra un nuovo allenatore, sceglie chi mandare in campo. Ci sono rimasto un po' a male. Prima ho avuto il tumore e scoprirlo a 41 anni, con tre figli, nel pieno della carriera, non è bello per niente. Ti distrugge. Ho cercato di recuperare per tornare alla mia vita, a quello che mi piace fare, alla famiglia e al lavoro che coronava tutto.